ed ecco nuove generazioni camp rebel marco annis colonio mozzese siti report seguiteci che adesso vi facciamo vedere ancora qualcosa andiamo avanti questa granata blu tac 67 blue edition speciale progettata da tag in europe per paintball riempita con paline piene di colorante alimentare raggio di azione 15 metri 120 decibel si adesso è partita tutto molto semplice e sicuro per acquistare e conoscere questi prodotti con chi possono parlare possono parlare sempre o con me o con nostri rivenditori come barbarossa grey wolf software insomma se cercano su facebook tag in italia tutta informazione traveranno da noi o sul sito airsoft per tecnics puntocom facciamo provare magari anche lancia granate un saluto a tutti siti report tullio trapasso colonio monzese andiamo avanti grazie grazie a tutti